Nuova BMW 2020 M235i Coppia di 450 Nm, potenza oltre 300 CV, 0-104,8 secondi e 250 km orari per i 306 CV Sono un biglietto di presentazione di una vettura molto, molto emozionante e veramente MBMW Le prestazioni sono veramente da gamma superiore Perché sotto i 5 secondi da 0 a 100 Questa nuova piattaforma FAR che magari avrà fatto storcere il naso ai puristi BMW Viene invece promossa a pieni voti Insomma, in definitiva, a un prezzo decisamente abbordabile Questa M235i è una vera BMW È una vera M È una vettura molto gratificante Con una dinamica eccezionale Grazie a tutti